E' tornato anche quest'anno, in occasione della solennità del ritrovamento della sacra immagine della Madonna dei Miracoli di Andria, il premio Donna dell'Anno. L'evento, organizzato dall'Associazione Madonna dei Miracoli, è giunto alla sua quattordicesima edizione, è rivolto a quelle donne che con la loro dedizione si sono distinte in vari ambiti professionali. Quest'anno il riconoscimento è stato assegnato alla dottoressa Stefania Ciriello, medico di base di Amatrice, accompagnata dal nostro concittadino Don Fabio Gammarrota, parroco di Amatrice, il servizio. Presidente, perché avete deciso di consegnare questo premio alla dottoressa Stefania Ciriello? Sono già 14 anni che noi facciamo questo premio, quest'anno ci siamo allargati, come si sa, per motivazioni, tutti quanti siamo stati coinvolti il terremoto e conoscendo Fabio, oltre ad essere concittadino, un cittadino, ma anche un mio ex alunno, per cui interpellai e dicendo cosa si poteva fare per Amatrice, lui disse una testimonianza e quindi si allegò la premiazione della donna che lui segnalò, la dottoressa, con la premiazione della donna. Perciò abbiamo scelto Amatrice per essere vicini a questa popolazione che in questo periodo sta soffrendo. Dottoressa, innanzitutto che effetto le fa a ricevere questo premio? Guardi, sono molto emozionata perché l'idea, cioè io ho accettato perché avevo sentito parlare di Don Fabio di questo premio e ho accettato con vero piacere. Perché? Perché mi porta a fare due cose. A ricordare e a rappresentare tutti quelli che purtroppo in quella notte nefasta hanno perso tutto e ricordare una comunità che comunque vuole continuare a vivere. E io voglio essere l'espressione di questa comunità che continua a vivere, ricevendo questo premio e offrendolo proprio alla città in cui ho vissuto vent'anni e che purtroppo adesso sta in queste condizioni di grande difficoltà. Qual è la testimonianza che lei porta a questa comunità? Guardi, io fino al 23 vivevo serenamente con la mia famiglia in una città che comunque era bella, si accingeva a festeggiare una bellissima settimana perché era la settimana della Sagra, era insomma un periodo di festa. Quella notte alle 3 e mezzo, 3 e 36, ha distrutto i sogni di tanti. E la cosa più triste e più drammatica è che tanti sogni dei giovani sono andati perduti perché è stata veramente una strage di giovani. E quindi io voglio assolutamente testimoniare questo perché la memoria deve essere sia per non dimenticare quello che è stato e per non commettere quegli errori che sono stati fatti anche nelle costruzioni. Perché il nostro Vescovo disse nell'omelia in cui ci fu il funerale che non era il terremoto che distruggeva, ma erano gli uomini che costruivano male. Quindi questa per me deve essere una memoria, un memoriale per non dimenticare e quindi per tentare di cambiare la mentalità e un memoriale per ricordare i nostri giovani, in particolare mio figlio che è morto, non aveva neanche 23 anni. E questo per me è un messaggio d'amore, continuare a dimostrare il mio amore.